buongiorno dalla casa del manzo stasera le 21 e 30 non puoi perdere assolutamente la diretta che terrò sulla mia pagina facebook claudio manzone fitness coach durante la quale ti spiegherò quali sono le migliori strategie per ottenere il meglio da ogni biotipo mela pera clessidra giornale soprattutto ti aprirò gli occhi su quali sono gli errori da evitare che tutte le persone commettono per cercare di migliorare la loro condizione e per cercare di migliorare i propri inestetismi in questo modo avrai una visione ampia chiara e corretta di quali sono le migliori strategie da utilizzare per ottenere il massimo possibile dal tuo corpo dal tuo fisico quindi ti aspetto questa sera alle 21 e 30 in una diretta imperdibile è una video lezione in diretta ed è un estratto delle coaching private che faccio soltanto con alcuni miei clienti che seguo giorno per giorno attraverso il loro percorso di cambiamento ti aspetto stasera alle 21 e 30 non te ne pentirai